Buon pomeriggio, buon sabato e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione con ETG Marche. Dunque in primo piano andiamo a Fabriano, allarme per la scomparsa di un giovane poco più che trentenne, uscito ieri sera per un'escursione in montagna, in serata non ha fatto rientro a casa ed è così scattato l'allarme da parte dei familiari. L'auto del ragazzo è stata ritrovata in località Vetralla, in uno spazio da dove poi ha inizio un sentiero, probabilmente quello imboccato dall'escursionista, scomparso. Al momento sul posto, come vedete anche da questi scatti, stanno lavorando da ieri sera i vigili del fuoco. Oltre al distaccamento di Fabriano, in azione anche il nucleo Cinofili, il soccorso alpino, il 118 e un elicottero dell'aeronautica militare. Vi terremo ovviamente aggiornati. Ed ora invece andiamo a visso questa mattina, inaugurazione della nuova piatta del paese, mentre quella storica, ancora stretta nella zona rossa, il nuovo centro ospita servizi sanitari, tra cui un poliambulatorio pediatrico, attività economiche e produttive, servizi di culto e poi ancora punti di aggregazione sociale e culturale. Finanziato con i fondi della protezione civile e con gli SMS solidali, si sviluppa su un'area di circa 16.000 metri quadrati, con strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità dei servizi e l'economia cittadina, che sono stati compromessi ovviamente dal sisma del 2016. E ovviamente questo è solo un estratto, queste immagini che abbiamo visto, vedremo poi l'approfondimento questa sera nel corso del nostro notiziario con un servizio alle 19.20. E presto anche ovviamente sul nostro sito, sempre aggiornato www.etvmarche.it. Ed ora invece andiamo ad Ancona per un'iniziativa, il prossimo 2 ottobre, il gran mercato del piano, proprio nel quartiere Piano San Lazzaro. Vediamo. Quest'idea di fare del piano, dell'intero quartiere, un mercato, come dire, totale, diciamo così, con un evento particolare, credo che sia un'idea efficace. Parte dall'identità vera, non se l'inventa del piano, l'amplifica e coinvolge appunto Ancona e Tania e non solo. Domenica 2 ottobre sarà la data zero del gran mercato del Pia, l'iniziativa che con regolarità riempirà l'intero quartiere del piano e piazza d'armi ad Ancona. Un luogo di commercio e di incontro, di aggregazione e recupero dell'identità, che ruota tutta attorno alla struttura storica del mercato coperto, su cui l'amministrazione comunale è pronta a far partire il progetto di riqualificazione. Siamo al progetto definitivo in corso di redazione e quindi noi contiamo che tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo sia indetta la gara d'appalto dei lavori. Il gran mercato del Pia intanto ha un programma delineato, dalle 10 alle 22 del 2 ottobre, tre macro aree ideali di interesse, una espositiva e commerciale con varie sezioni merceologiche, una con offerta enogastronomico, una con intrattenimento, musica, teatro, danza e il progetto Gran Orchestra del Pia, che vedrà numerosi musicisti di Ancona suonare e contaminarsi con suoni e canti di altre culture. Un evento nato dalla cooperazione tra comune e privati, in particolare l'Associazione degli Esercenti di Piazza d'Armi, attiva nel valorizzare il quartiere e chiedere maggiori investimenti in sicurezza. Questo è un quartiere particolare che non credo abbia eguali nella città di Ancona, anche perché qui, come tutti sapete, oltre ad essere cuore pulsante del commercio, è anche simbolo di integrazione, tolleranza, eccetera. Naturalmente integrazione significa anche sicurezza, sicurezza per noi dell'Associazione significa soprattutto decoro, pulizia, illuminazione. Anche il punto fisso nei toroidi dove era stato allestito praticamente un punto di riferimento della polizia locale con l'ausilio dei carabinieri e polizia. Queste sono tutte cose che servono soprattutto a noi naturalmente del mercato, al quartiere, ma anche all'integrazione vera e propria. Ed ora parliamo della cremazione degli animali domestici con una idea imprenditoriale nuova di due giovani a Civitanova Marche. Vediamo. Ci sono problemi al momento con il servizio e quindi andiamo avanti con il nostro notiziario e parliamo del Falconara Sport Day, con una serie di iniziative per avvicinare bambini e ragazzi allo sport con le diverse discipline sportive nella città falconarese. Ieri sera l'anticipazione con l'incontro studente-atleta come fare. Vediamo. Avendo sempre ogni giorno un impegno sportivo tra allenamenti e partite, cerco tramite il mio tempo libero di organizzarmi al meglio con lo studio e di stare a ascoltare il meglio possibile in classe in modo da lavorare di meno a casa. Questa è la routine di Tommaso Catalani, giocatore del volley Falconara Pallavolo ma anche studente. Dunque concentrazione e impegno personale ma anche un piano formativo a misura di sportivo in modo da consentire ai ragazzi di portare avanti gli studi e l'attività agonistica senza rinunce. Il tema è stato al centro dell'incontro organizzato a Falconara nell'ambito del Falconara Sport Day fino a domenica. In questo weekend dimostrazioni e prove gratuite con le 22 società sportive falconaresi per coinvolgere bambini e ragazzi essendo lo sport garanzia anche di salute e crescita armonica. E poi se il livello sale e si arriva all'agonismo, continuare a studiare è possibile come avviene al liceo con indirizzo sportivo Cambi Serrani. Lì ha studiato negli anni scorsi Erika, ora calciatrice e studentessa universitaria. Arrivare nella realtà falconarese mi ha aiutato per diversi aspetti come appunto poi l'incontro con il liceo sportivo che sicuramente mi ha aiutato tantissimo a coniugare entrambe gli aspetti ovvero l'aspetto sportivo e l'aspetto dello studio. Questo è un doppio ruolo in questo momento che mi gioco nel senso che sono sindaco e quindi in questo senso veramente orgogliosa di questa iniziativa ma come dirigente scolastica di un liceo sportivo e tra l'altro Erika è stata una nostra studentessa Ecco questo mi fa particolarmente piacere perché proprio nel nostro istituto e nel nostro liceo sportivo si realizza questa capacità di accompagnare gli studenti nel loro percorso e contemporaneamente aiutarli nelle loro attività sportive. Entrambi gli aspetti, cioè sia lo sport sia la scuola, entrambi vogliono raggiungere la stessa finalità cioè la crescita, il benessere fisico perché sport è anche salute ma sport è anche inclusione soprattutto sport è anche scuola e quindi cultura, formazione e arricchimento della persona perché formiamo chiaramente i cittadini di domani, di futuro ed entrambe le attività sono fondamentali per la crescita sana e responsabile dei ragazzi. Ed ora andiamo allo sport giocato in questo caso in Serie B, quinta giornata di campionato nel pomeriggio di oggi appuntamento per l'Ascoli, l'Ascoli dell'allenatore Cristian Bucchi contro il Perugia allo stadio Curi per la quinta giornata in Serie B, sfida tra ex anche se ci sarà Mirko Savini a sostituire in panchina proprio mister Bucchi, fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo l'espulsione a fine primo tempo nell'ultima gara interna contro il Cittadella in Serie C invece vi ricordiamo domani alle 14.30 domenica le quattro marchigiane del campionato tutte in campo e stasera durante il nostro notiziario vedremo ancora altre anticipazioni rispetto a questo e ovviamente io per il momento mi fermo qui ma vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul sito www.etvmarket.it, sulla app scaricabile sul vostro telefono tutte le nostre video news e ovviamente seguiteci anche sui social. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi, buon weekend!